dopo un mese e mezzo di stop ragazzoni torno a fare enduro sul san martolo sì 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 ora è ora luna park che goduria sempre bello bellissimo terreno al top ragazzi e ritorno ancora un po' bagnato ho chiuso tutto spine punto tecnico è proprio dritato kids che bella sensazione tornare in bike è tutto l'ultimo petto un saltino bella è proprio bella uff 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 Che sacco cura fantastico sì, bellissimo oppa oppa al ripido sto Molto bella corta ma bella Tanta roba, del male, si la chiesa La chiesa, oh qua ha chiuso tutto Pianino Madonna, si è chiuso Ma che voglio Ah qui l'ho scavato, bravi, si Tutto cambiato sotto qua Benissimo Ragazzi, video finito Se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete il like Cliccate E un salutone Finalmente ho ricominciato a fare enduro Grazie 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 Grazie